Ok, per questo esercizio partiamo da una posizione di sinistra e di sinistra, da qui fissiamo una benda elastica all'estimità destra del nostro corpo, sinistra, in base dove vogliamo svolgere l'esercizio, la gamma interna sarà quella della benda, la gamma esterna sarà quella appoggia di terra, impugniamo l'elastico con una presa vista, da qui solleviamo e portiamo verso la spalla opposta, ritorniamo in posizione di partenza e si ripetiamo.